Bene, ci siamo, è un evento eccezionale, sapete che da poco è stata ritrovata forse la basilica di Vitruvio. La basilica di Vitruvio l'hanno trovato. Il San Costato Show ha appena fatto da poco un cortometraggio, la scoperta del secolo, e quindi noi siamo molto onorati. L'ingegnere Mirko Ioni. Io so Mirko Ioni l'archeologo che ha trovato tutta strada. Lei pensi che io ero qui a fanno tv per fare questa intervista, mi sono messo a scavare perché sta il lavoro mio, e insomma scava scava, sa cosa ho trovato qui sotto fanno tv? La muraglia cinese ho trovato. Adesso devo smontare tutto, lo studio niente, qui ti tocca smontare tutto. Qui dove scavi scavi. Certo c'è la muraglia cinese, hai capito questi cinesi qua? Ma fino a qui sono arrivati. Fino a qui sono arrivati. Allora prima che... Che muraglio grosso che ha ne fatti. Allora aspetti perché vi ricordiamo che venerdì 17, quindi questo, siamo al Teatro Politeama con lo spettacolo Somari di Battaglia alle ore 21. Sabato c'è la proiezione del film. Non aprite quella scorta. A seguire il cortometraggio, la scoperta del secolo. Quindi sabato grande evento, domenica alle 18.45 il film. Quindi vi aspettiamo per questo grande weekend. Un weekend de botto, venite a scavare, venite a scavare. Sabato e domenica al Cinema Teatro Politeama di Fano. Vi aspettiamo. Adesso stai sposti perché io devo scavare. Ma ancora qui? Ma scusi, sono la rosa della cieca. E chi è l'ingegnere che scava? Eh sì, l'ingegnere Mirco Ione. E io non ho fatto in tempo per fare la spesa. Ho bisogno di qualcosa per fare il brodo, i capelletti in brodo. Se trova qualcosa, non il butti via, mi diamo a me che fa sempre buono per fare il brodo. Vabbè, vabbè, se trovo qualcosa glielo metto da parte. Eh sì, sì, che c'ho da fare? Ma chi è questa malta? Che ha chiamato? Oh bravo, se scanschi io adesso scavo tutto qua, trovo il muragliolo, lo tiro fuori, sei turisti, tutti affrotti.